In un altro video vi ho fatto vedere Google Play Protect, un sistema con il quale quelli di Google mettono in sicurezza tutte le applicazioni che vengono scaricate dal Play Store effettuando un controllo automatico molto prima che il download avvenga. Ma se non vi fidate di questo sistema di Google e volete andare ancora più a fondo, il mio consiglio è di guardarvi questa video recensione. Vi parlerò di un'applicazione, la migliore nel suo genere, che effettua uno scan delle applicazioni installate nel vostro dispositivo, uno scan estremamente approfondito, che in un certo senso potrebbe anche far vedere dei falsi positivi, poi sarà a voi decidere come procedere con le applicazioni elencate. Lo faremo appunto con un'applicazione gratis, vi siano Dara Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanPage. L'applicazione che vi consiglio di scaricare si chiama AVL, è un'applicazione che come vi dicevo è disponibile gratuitamente nel Play Store e funziona estremamente bene, forse pure troppo. Una volta scaricata e avviata l'applicazione per la prima volta, tutto quello che dovrete fare sarà prima di tutto andare nelle impostazioni e accertarvi che tutte le voci siano attive e siano come state visualizzando adesso nel video. A questo punto potete effettuare uno scan dell'applicazioni avviando proprio la funzione, ruotando la rotellina che vedete al centro dell'interfaccia grafica e dando il via all'operazione. Si tratta di un'operazione estremamente approfondita, quindi la durata di questa scansione potrebbe essere molto lunga, anche superiore ai 10 minuti, ma una volta terminata avrete un elenco di tutte le applicazioni che secondo il sistema possono essere dannose. Il mio consiglio è quello di non disabilitarle tutte, ma di sceglierle una a una e pensare anche al tipo di applicazione dove l'avete scaricata e se in effetti veramente la utilizzate. Terminata la vostra scelta, potete procedere con la disinstallazione automatica. Si tratta di un'applicazione estremamente buona. Io mi ci trovo benissimo ed in effetti tantissimi esperti del settore la reputano una delle migliori. Il discorso è che proprio perché è estremamente precisa potrebbe generare dei falsi positivi. Fate molta attenzione a capire quale applicazione realmente dovete disinstallare. Nell'elenco che è uscita a me ne ho trovato alcune che in effetti poi ho disinstallato perché non erano per niente sicure. Io sono Adore Caliendo, appuntamento al prossimo video di TechFanPage. Adore Caliendo, appuntamento al prossimo video di TechFanPage.